Primo risultato concreto nella lotta dell'amministrazione comunale contro il caro tariffe assicurative per gli automobilisti napoletani. Ieri con una delibera della Giunta sono stati approvati due protocolli finalizzati alla nascita di una convenzione chiamata RCA Napoli Virtuosa. I primi due sottoscrittori dell'accordo sono la compagnia inglese Admiral Group con il marchioconte.it e la società specializzata in controlli satellitari via SAT e si auspica che presto si aggiungano le adesioni anche di altre compagnie. Le prime polizze con tariffe ribassate partiranno dalla prossima estate. Una delle principali idee cui si ispira l'operazione è quella di innescare comportamenti virtuosi attraverso l'eliminazione di alcune delle prassi irregolari che alimentano i costi per le compagnie e quindi il livello dei prezzi a partire dal vorticoso giro dei sinistri assicurativi. Avremo presto in estate delle tariffe più basse e noi andiamo a incidere su alcuni specifici costi francamente inaccettabili. Quello che mi ha impressionato di più e che mi è stato raccontato dai tanti avvocati onesti che ci sono in questa città è proprio l'avvocato fittizio, quello che prende in mano una pratica dal primo giorno, una pratica assolutamente normale, dice me la vedo io e la legge prevede che lui per 60 giorni non si è pagato. Allora lui cosa fa? Evita che il problema sia risolto nei primi 60 giorni, nasconde la macchina per 58 giorni, quando la compagnia dà la sua risposta i 60 giorni sono passati e lui deve essere pagato. Il cliente dice vabbè tutto sommato paga la compagnia, no pagano i cittadini onesti che si vedono poi l'anno dopo aumentate le tariffe. Ma l'impegno è bilaterale, anche i cittadini infatti sono chiamati ad entrare nel circolo virtuoso, dimostrando di possedere alcuni requisiti come la regolarità nel versamento delle imposte, il non essere stati coinvolti in un numero anomalo di sinistri e la disponibilità ad installare sull'auto il dispositivo telematico che aiuti ad accertare la dinamica dell'incidente. Tariffe più basse non per tutti, ma per i napoletani virtuosi, cioè quelli che sono in regola con le tasse, quelli che sono corretti nei confronti degli altri cittadini, perché noi crediamo che il meccanismo del chi è corretto paga e premiato è il meccanismo più sano.